Bene, bene, mi fa piacere che siamo numerosi, ci sono tante persone che mi hanno scritto, tantissimi bei commenti, grazie, grazie di cuore, perché siamo nel percorso, siamo nel flusso, siamo nell'intenzione, a me piace utilizzare questo termine, intenzione, quando c'è un intento specifico tra tutti noi sicuramente abbiamo l'opportunità di generare una vibrazione diversa. Sappiamo benissimo che dentro di noi, in parte, se così è vero, voi me lo potete confermare, il nostro corpo è, all'80% è creato di acqua, quindi se qualcuno di voi ha fatto già delle ricerche legate al mondo della vibrazione, al mondo della frequenza, l'intenzione ci aiuta tantissimo a generare un cambiamento e a generare una trasformazione. E attraverso il gruppo, attraverso i cerchi, i cerchi che creiamo, sicuramente avere un'intenzione amplifica tutto questo percorso. Bene, allora, giusto per darti una panoramica, perché magari a volte pensiamo che lo stato religioso, o comunque la religione, influisca poco o tanto nelle nostre vite. Pensa che nel mondo c'è l'induismo, c'è il buddismo, il taoismo, il confucianesimo, l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam. E pensa che la prima religione al mondo con più persone distribuite nel mondo, con più templi, con più movimenti religiosi, è l'induismo. Ecco, nemmeno io ci pensavo, però lo puoi vedere anche te, c'è proprio una statistica, ma non è solo una statistica, è un dato oggettivo, reale, l'induismo. Poi viene il buddismo, il terzo posto è il taoismo, è anche qua, non ci pensavo, proprio come storia, religione, come incontro, come proprio punto di incontro tra i vari popoli. Poi c'è il confucianesimo, incredibile, l'ebraismo, il cristianesimo, al penultimo posto e all'ultimo posto l'islam. Poi a prescindere, no, una religione più bella dell'altra o ha una storia più bella dell'altra, insomma, ce ne sono anche altre di religioni, però queste sono quelle più, diciamo, tra virgolette più conosciute e nello stesso tempo più frequentate. Poi è chiaro che c'è l'ebraismo, il baismo, il confucianesimo, che abbiamo detto prima, il gaianismo, il shintoismo, insomma, ce ne sono tantissime, quasi quasi possiamo crearcene anche una noi di religione, e allora sì, ci sono delle religioni che sono nate negli ultimi 30 anni, 40 anni. Bene, bene, bene. Allora, oggi cosa volevo darti come suggerimento? Un suggerimento molto potente, perché a volte crediamo che chiedere all'universo sia sempre la giusta strada. L'importante, sì, che è la giusta strada, l'importante è che noi siamo interconnessi, stiamo nel silenzio con noi stessi, siamo nella nostra verità, siamo nella nostra luce, siamo nel nostro credo. Come ripeto spesso, l'importante è che tu credi a una cosa, che tu abbia fede in una cosa. Allora voglio portarti questa preghiera, è una preghiera induista, per la pace. Quindi non pensiamo, sei induista, ok, questo te l'ho sempre detto, è semplicemente il concetto di pura forza, intenzione legata alle parole. E vediamo che poi ogni strada, ogni direzione ci porta a un unico punto, ok? Questa è una preghiera per la pace, quindi possiamo anche ripeterla insieme. O Dio, guidaci dall'irreale al reale, o Dio guidaci dalle tenebre alla luce, o Dio guidaci dalla morte all'immortalità. Shanti, Shanti, Shanti a tutti voi. O Signore Dio onnipotente, che la pace regni nelle regioni celestiche. Che la pace regni sulla terra, che le acque siano di ristoro, che le erbe siano sane, e che alberi e piante rechino a tutti la pace. Che tutti gli esseri caritevoli rechino a noi la pace. Che la legge, vedica, diffonda la pace in tutto il mondo. Che ogni cosa sia per noi fonte di pace. Che la tua stessa pace conceda a tutti la pace e che venga a me. Ok, quindi, cosa significa Shanti? Cosa significa Shanti? Origine di fusione, Shanti nell'induismo indica anche uno stato di pace interiore. Il significato della parola, appunto, pace, tranquillità, quiete. In sanscrito. Ok? Quindi, a volte non pensiamo subito, ah, c'ho una parola, una parola indiana, chissà che. Vai a cercarla, ecco. Vai a cercarla nella profondità. Ed è bellissimo. Shanti, Shanti. Magari ti piace questa parola, no? Ti piace e la ripeti dentro di te. Shanti, Shanti, Shanti. Quindi sai che è pace, tranquillità e quiete. In sanscrito. Bene. Andiamo avanti. Andiamo avanti con il nostro percorso. Andiamo avanti con tanti esempi, tante idee, tanti concetti che ci possono aiutare a prendere punti di riferimento intorno a noi e a far sì che noi possiamo trovare la nostra luce interiore, quella luce che possa brillare dentro di noi, no? Come diceva anche San Paolo, non portiamo l'attenzione verso l'esterno, ma portiamo l'attenzione nel mondo immaginario che quello resterà nell'eternità. Quindi cerchiamo di entrare adesso attraverso questa meditazione che facciamo insieme di portare luce, portare luce nei nostri cuori e piano piano vedrai anche tu nel tempo, in questo periodo di tempo, che troverai sempre di più risposte concrete dentro di te, ma nello stesso tempo con la forza dell'intenzione che ci aiuta a legarci nell'unione, nell'intento per portare gioia nei cuori delle persone che sono intorno a noi, vibrando in un altro modo, ok? Quindi, ora ti chiedo di immaginare, immaginare in questo momento un cerchio di luce e inserire te stessa o te stesso all'interno di questo cerchio e vedere che siamo tutti interconnessi da questo cerchio di luce e mentre sei all'interno di questo cerchio di luce facciamo tre respiri profondi, partendo da adesso insieme, fai un bel respiro, tutti insieme, uno e butta fuori lentamente, due e butta fuori lentamente e tre e porta questa vibrazione all'interno del cuore, porta questa vibrazione all'interno dentro te stesso, dentro te stessa e porta luce dentro il tuo cuore che si collega di cuore in cuore in ogni singola persona che è presente in questo spazio, in questo luogo, uno spazio che può essere anche senza tempo, uno spazio che può essere un luogo dove puoi espandere ogni tua vibrazione e ogni luce che è dentro di te che possa collegarsi verso l'eternità di pianeta in pianeta. E ancora, una volta, concentrati sul tuo cuore, immagina che esca della luce per aiutare le persone che sono intorno a te, nel dare luce negli spazi di lavoro, nel dare luce nei luoghi di ristoro, nel dare luce negli ospedali, nel dare luce nei luoghi di guarigione, nel dare luce nei luoghi di speranza, nel dare luce nei cuori delle persone che in questo momento stanno superando delle grosse difficoltà. perché è importante dare e se impariamo a dare possiamo anche ottenere, possiamo ricevere, anche se non ti arriva nulla in cambio da quella persona che immaginavi di ricevere, ma probabilmente ti arriverà dall'universo, Dio, ogni potenza, qualsiasi fonte che intorno a te arriverà qualcosa di molto, molto forte. Ora rientra, rientra nel tuo potere, rientra nella tua luce e piano piano dentro di te, sempre ad occhi chiusi, immagina una luce, una forte luce davanti a te che pervade completamente il tuo corpo. Bene, bene, ora quando vuoi, in questo momento apri gli occhi, torna qui e se vuoi scrivermi qui sotto nella descrizione alcune sensazioni, alcune percezioni che hai avuto, se anche in questi giorni è cambiato qualcosa, a livello di energia, a livello di frequenza nella tua vita, se è cambiato qualcosa anche intorno a te, che hai percepito cose differenti, ecco, è importante, è importante che inizi a valutare da oggi, nei prossimi giorni, se intorno a te sta cambiando qualcosa, si sta muovendo qualcosa. Ok? Intanto ci vediamo domani e condividi, come ben sai, questo canale, iscriviti e se hai voglia clicca su grazie, super grazie, e ci aiuti a mantenere attivo e sempre più attivo questo canale. Ciao, domani!